Avete mai sentito parlare dell'effetto Kuleshov? Se vi piace il cinema, non potete non conoscerlo. È un esempio famosissimo che punta a dimostrare il potere manipolatorio del montaggio. In pratica, ad un primo piano del viso di un uomo che non esprime alcuna emozione particolare, vengono associati frammenti di pellicoli d'archivio. Agli occhi dello spettatore, la stessa inquadratura dell'attore assume quindi tre emozioni diverse a seconda dell'immagine a cui viene appostata. Secondo voi quali sono? Scrivetele nei commenti.